KTM SXF 250 replica Marvin Masken, andiamo a vedere insieme in panoramica questo cavallo da battaglia, andiamo! Allora, oggi in tavola vi porto questa meraviglia di KTM 250 SXF replica Marvin Masken, serie limitata, spettacolare, con all'attivo una cinquantina di ore, il motore è già rifatto, insomma, due lavoretti li abbiamo fatti anche noi, andiamo a guardare a 360 gradi di che cosa stiamo parlando. Partiamo dal fatto che l'ho lavata malissimo e questa è colpa mia, ma l'altro giorno siamo rientrati da un giro veloce che abbiamo riprovato il beta per vedere se funzionava e, insomma, era un po' tardi, faceva già freschetto, gli ho dato una pulita sì, però, insomma, potevo farlo meglio, ma come sempre io sono onesto e vi faccio vedere le cose come stanno dal principio. Innanzitutto ringrazio Mercandelli Moto che ci ha fatto veramente un servizio incredibile nel posto dove l'abbiamo acquistata. E ragazzi, andate a fare un giro perché Lorenzo vi porta delle chicche che solo lui riesce a trovare. Partiamo dal frontale, con queste grafiche Red Bull magnifiche e le sue forcelle WP originali, tenute veramente molto bene. Anche le grafiche sono state conservate benissimo, il suo copridisco anteriore, ovviamente sporco ma integro, sporcizia è colpa nostra, continuo a ribadirlo, colpa mia più che altro, i suoi cerchi originali XL neri che stanno da Dio, da Dio con questa colorazione e con il telaio arancio in tono che è una cosa che KTM, diciamo, ha azzeccato completamente. E qua già cominciamo a vedere qualche piccolo dettaglio che si ha, diciamo, visto un po' il suo tempo, è giusto, ma che vi sa già di, come c'è scritto qui, che non si vede perché sto facendo ombra io, KTM Power Parts. Freni originali Brembo, ragazzi, quando c'è Brembo c'è sempre da emozionarsi. Ma che bello, è il suo tubetto in treccia, qualità. E da qua saliamo per arrivare alla parte grafica, col 122, le piastre, bellissime queste piastre qua, le sue regolazioni. Stiamo comunque parlando di una moto che attualmente ha il suo terzo proprietario, Lia, che qua salutiamo, che è la mia ragazza, è il suo terzo proprietario. Il primo proprietario ha fatto un po' di pista, il secondo proprietario ha fatto un po' di boschi e, vabbè, ha fatto un po' di cose che non ci ha dato sapere che cosa. L'importante è che la moto sia in ordine e la moto è in ordine, devo dire. È stata veramente, è stato un fulmine al ciel sereno questa moto. L'abbiamo trovata, come l'abbiamo trovata, siamo andati a vederla e abbiamo detto di sì. Lia ha detto di sì, perché si è innamorata, persa. Situazioni ai radiatori tenuti bene, le grafiche ovviamente, è una moto che deve andare nei boschi, deve andare in pista, qualcosa si perde, si perde via nella strada facendo, ma nulla di che. In questo caso ha vissuto abbastanza bene, ecco. Qui, anche il livello di motore è stata tenuta bene, le tubature della Kite, il suo impianto d'alimentazione con la levettina per la messa in moto a freddo, il copritelaio Polisport, bellissimo. Qui abbiamo sostituito, giusto, il pignone, la catena e la corona che ormai avevano fatto il loro corso. Il paramotore di metallo che è una chicca che secondo me vale sempre la pena avere perché vuoi che ci fai motocross, vuoi che ci fai un po' di bosco. Ragazzi, il paramotore è sacrosanto. Io ho visto delle scene che mi hanno fatto capire che il paramotore è sacrosanto. Sui fianchetti qualche segno del tempo, ovviamente, un po' le plastiche sbiadite, è una moto che viene usata, non viene lasciata in garage ad ammuffire, no? È normale che ci sia un po' di spazzolata in più sull'alluminio. E sulla corona che attualmente è nuova di pacca, è solo sporca perché, ripeto, io sono un animale e non ho saputo lavarla decentemente. I registri, anche questi sono nuovi perché erano l'unica cosa che purtroppo era stata trattata un po' male. Per fortuna tutto il resto era sano, i suoi bulloni di regolazione erano sani, erano solo i registri che qualcuno ha deciso di, non lo so, di spingere un po' più del dovuto. Tornando su, torniamo un attimo sulle plastiche. Anche qui qualche grattatina, qualcosa, vabbè, sai, prendi due rami, due sassate. Si riga come niente. La sella è bellissima. La X-Seat della Cerbis, guarda che, secondo me è stupenda, con questa trama disegnata e molto ergonomica. Davvero bella, bella, gripposa. Sì, ok, sta iniziando a vedere passare un po' il tempo, qui comincia a essere un po' liscia, però qua sopra invece si mantiene ancora bella, gripposa. E' ovvio che qui è il punto dove appoggi di più, quindi è il punto che parte per primo. Una cosa che mi piace tantissimo, ma vado dall'altra parte così non vi copro con la mia ombra. Guardate che bello il tappo. Il tappo è uno spettacolo devastante, devastante. E' bellissimo il tappo. Lavorato in questa maniera è una figata. Qualche adesivo originale che comincia a perdere un pochino lo smalto. E il manubrio, anche qui, rivestito della Rental. Con i suoi coperchietti della Kite e le leve, la NR Team. Queste leve sono spettacolari, vado di là che ve la faccio vedere meglio. Frizione idraulica. Qualità, ragazzi. E torniamo un attimino dalla parte destra. Qua scendiamo e cominciamo a trovare della roba interessante. Guardate questo coperchietto qui lavorato. Quante emozioni che vi dà questo coperchietto lavorato, eh? Come vi sa proprio di racing, di pro. Spettacolare. Leva. Anche lei a tono. Ovviamente è un po' usata. Questa devi spettivellare per accenderla, eh? Non si accende così con un click. Questa richiede gambe atletiche, gambe dure. Andando avanti. Guarda che meraviglia questo mono della VP. Totalmente regolabile. Io mi emoziono veramente perché io sono abituato davvero a vivere con il minimo indispensabile. Queste per me sono comodità. Però si è mantenuto molto bene. Molto probabilmente queste sospensioni sono passate in un sospensionista. Tra l'altro questo è l'adesivo originale che c'era su. Non lo so. Sicuramente è un sospensionista che adesso non riesco a leggere. Stefano adesso non mi ricordo più, però siamo andati a vedere. Sembra uno molto bravo. Il mono risulta un po' più rigido di come era in origine. E un po' a livello proprio di feeling sembra essere un po' diversa. Sospettiamo che abbia fatto un giro da qualcuno che ne sa. Andiamo su l'impianto frenante posteriore. Brembo sempre. Con il suo supportino della kite. E ovviamente l'altro registro che abbiamo prontamente sostituito. Il dado originale è ancora qui. E si vede che è stato trattato non con le dovute precauzioni. Però per fortuna è ancora integro. Ci abbiamo veramente messo l'anima per aprire questi registri. Ma alla grande. Ma adesso giustamente andiamo sul pezzo forte. Per il pezzo forte partiamo dall'inizio. E proseguiamo finché arriviamo ovviamente a vedere di cosa stiamo parlando. Che questo è un completo in titanio. Acra. Che ha perso un po' di smalto sul... Sul tichetta ma vabbè. Ci abbiamo pensato noi un attimino a mascherare la cosa. Il suo bellissimo. Queste cose sono... Queste cose mi fanno veramente impazzire. I supporti. Le fascette che lo tengono... Che tengono sullo scarico in carbonio. Bellissimo. Ce l'avevo anch'io sull'Eovins. Anni fa sullo Zeta. Ed era una cosa che veramente ti faceva emozionare ogni mattina quando la accendevi a freddo. Guardavi le fascette in carbonio. Lo so che sono piccolezze ma... Non lo so. Ti danno quel gusto di racing che va sempre bene. Va sempre bene. Specialmente alla mattina. Spettacolo ragazzi. Suona da Dio. E vi ricordo di andare a vedere il video ASMR. Perché lì sentite veramente di cosa sto parlando. Una meraviglia. Ho abbassato il cavalletto per salire. A bordo di questo cavallo da battaglia incredibile. Che io temo ogni volta che lo guardo. Perché vabbè io... Si sa lo sapete sono uno stradista. Amante del fuoristrada sì ma novellino. Quindi io mi diverto ancora col Bettino per ora. Contagiri. Nella Pilot. Che in questo momento si vedrà poco. Mi segna 50.2 ore. Vi alzo l'ISO. In questo momento così lo vedete. Esattamente. E qua si conclude. Perché non c'è molto da vedere. Abbiamo veramente poche cose. La sua leva. Che vi ho già fatto vedere. I suoi supporti. Il suo gas. Le manopole cambiate da nuove. Perché ovviamente le manopole si mangiano in tre secondi. Gli erano rimesse esattamente uguali a quelle che aveva all'inizio. Perché comunque si è trovata bene. Due fascettine. Due fili di ferro. Legati per tenerle in sede. Perché scappano subito. E basta. C'è poco da vedere ragazzi. Ma quel poco è molto buono. È molto buono. Posso giusto raccontarvi come si sente una persona. Nel mio taglio. Quindi un metro e ottanta. Di cristiano. Che non è abituato a fare enduro. Su questo mezzo. E devo dire che ragazzi allora. Ho guidato un CRF. Ho guidato un vecchio CRF del 2008. Ho guidato un YZ. Sempre due e mezzo. Più o meno anni 2017-18. E un vecchio squarna. E vi devo dire che questa risulta veramente alta. Sì. Ma super 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 confident. Tantissimo. Io mi trovo veramente bene in questo momento seduto. E io sono una persona che non è abituata a fare enduro. Ma mi sento di poterlo fare. Poterlo fare in sicurezza e tranquillo. Senza sentirmi troppo impiccato. Ma proprio una seduta molto decisa. Le gambe stanno bene. Sono angolate bene. Appoggiate bene. Senza essere troppo arretrate. Troppo scomode. Mi sento veramente bene. Io vi parlo principalmente di fuoristrada. Boschi. Cosa del genere. Non sono un crossista. Però qualche base me l'hanno spiegata. Quindi diciamo che so abbastanza di cosa sto parlando. E il manubrio ha una piega che è veramente comoda. Io mi trovo molto bene. Queste leve sono. Le abbiamo regolate leggermente. Ma sono veramente. Ti danno confidenza. La frizione idraulica è uno spettacolo. E anche il freno anteriore. Per quanto poco magari venga usato. Fuoristrada. Ma io devo dire che queste leve corte sono stracomode. Ragazzi come sempre spero vi sia piaciuta questa panoramica. Di questa bestia indomabile. E spettacolare. Ogni volta che apriamo il garage ce ne innamoriamo. Vi lascio qua sopra. Quella che probabilmente spero abbiate già visto. L'experience completa. L'ASMR. Di questa meraviglia. Così da sentire bene tutta la sua cattiveria. E vi aspetto al prossimo video. Continuate a far muovere la vostra passione. Ciao.